Estra Energie fornirà il gas a 11 regioni italiane. Estra ha vinto la gara Consip per erogare nel 2016 il metano in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana e Umbria. Grandi stazioni si alimentano col gas di Estra. Dal 1 ottobre Estra Energie eroga al metano 8 milioni di metri cubi nelle stazioni ferroviarie di Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino e Venezia. Essere sicuri con il gas dipende anche da te. Una regola da non dimenticare prima di accendere le caldaie. Per evitare incidenti domestici, prima di tutto controllare l'impianto di riscaldamento. Anch'io Uso Internet è il progetto di alfabetizzazione digitale di Estra per Over 65. Estra che commercializza anche ADSL e telefonia offre a Arezzo, Prato e Siena un corso gratuito di 18 ore.